Guarda appena metti la marcia va, vedi, vedi che si sposta da sola è leggerissimo, la tua è più legata, la mia perché non la... invasata, imballata potete fare cambio cattro, si sa mai, magari gli piace è buonissimo lo sterzo in una maniera traventa hai capito, hai capito come si fa, senti come gira è molle lo stesso quanto lo muo, è giusto, lo vedi che è giusto ma la mia perché c'è lo stesso rugine come non puoi, basta, 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 c'è ancora tutto sotto sotto qua le quattro tempi, ce l'ha consegnato ieri eh, ce l'ha il chicco, quattro tempi per 2018, pensa qui quindi? una volta